Grande partecipazione di cittadini da questa mattina presto alla giornata di test antigenici gratuiti in modalità drive-in organizzata nell'area del Palazzetto dello Sport dell'Amministrazione Comunale Montorriese, campagna rivolta ai residenti di Montorio e della vicina Tossicia. Un'imponente macchina organizzativa, quella messa in campo, composta da medici di base e volontari, volta a rispondere alle tantissime richieste dei cittadini per eseguire un tampone di controllo in tempi rapidi e soprattutto circoscrivere il più possibile i contagi. Nella serata ieri è anche arrivato l'annuncio da parte del sindaco Fabio Altitonante, che sul proprio profilo Facebook ha annunciato la sua positività al Covid. L'amministrazione ha fortemente voluto questo tamponamento in modo da dare alla cittadinanza una maggiore tranquillità e in questo modo anche una forma di responsabilità nei confronti di tutti i cittadini. Abbiamo programmato all'incirca 1.800 tamponi nell'arco della giornata odierna e purtroppo già dai primi tamponi si sono verificati dei casi e questo per dare appunto, per contenere quello che è il contagio Covid. Ringrazio i cittadini montorriesi perché vedo che rispondono benissimo alla campagna di String, sono con molta responsabilità e anche pazienza, sono in fila da questa mattina presto, ringrazio anche tutto il lavoro fatto dai volontari che si sono messi a completa disposizione dell'amministrazione e della cittadinanza. Previsto la grande partecipazione, se ce ne sarà bisogno siete pronti anche a fare una seconda giornata? Ma noi siamo sempre operativi e sempre a disposizione della cittadinanza, quindi vediamo dai risultati di oggi e poi prenderemo ulteriori provvedimenti dal momento in cui ce ne sarà bisogno.